Grazie a tutti. Denunciato un foriano per spaccio e un ischitano per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Con il consigliere di opposizione a Forio Vito Iacono parleremo della situazione rifiuti e dell'avvertenza dei lavoratori del settore nel comune del Torrione. Ci sposteremo poi a Serrara Fontana dove con il sindaco Caruso parleremo del finanziamento ottenuto per i lavori di manutenzione straordinaria a Cala Ruffano. Con il presidente della FIDAS di Ischia invece parleremo della festa del donatore che è prevista per domani e di una nuova emergenza a sangue. C'è poi l'ampia pagina sportiva con il calcio, la vittoria del Procida, battuto il Barano, domenica in campo Real Forio e Nuova Ischia. Vedremo le immagini degli incontri e ascolteremo le interviste ai protagonisti. Ci sono poi gli appuntamenti, insomma ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La polizia ferma un fuori anno quarantenne per spaccio. Nel corso di una perquisizione a casa dell'uomo sono stati trovati 4 grammi di sostanza stupefacente tra eroina e crack. Un ischitano inoltre è stato denunciato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. Beccato con la droga ha minacciato i poliziotti. Rifiuti a Forio Vito Iacono si rischia il paradosso. Il consigliere di opposizione evidenzia le contraddizioni in materia. Da una parte si parla di esuberi, dall'altra dice si chiede al personale di ridurre l'orario di lavoro. Cavaruffano 661 mila euro per la manutenzione straordinaria. I fondi saranno utilizzati per la pulizia dell'alveo per evitare l'accumulo dei detriti. Soddisfatto il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso. Un finanziamento finalmente approvato dalla città metropolitana. Ischi all'Oterra e Ferdinando apre le terme agli ischitani. Lo scopo dell'iniziativa è far riavvicinare gli isolani alle cure termali. Difficilmente gli ischitani trovano del tempo da dedicare ai trattamenti termali, commenta il direttore sanitario, dottor Scarnapieco. Lo sport, il calcio, i solani in chiaroscuro, vince il Procida, perde il Barano. Importante vittoria del Procida che batte il Savoia 2-0. Sconfitta a Casalinga per il Barano 1-0 con il Real Albanova. Domenica mattina trasferta a San Giorgio per il Real Forio. In promozione a Mazzella la nuova Ischia ospita il Summa rionale Trieste. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Apriamo quindi con la pagina della cronaca. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ischia, gli agenti diretti dal Vicequestore aggiunto, dottor Mannelli, nella serata di ieri hanno proceduto al deferimento in Stato di Libertà all'autorità giudiziaria un quarantenne foriano pluripregiudicato per svariati reati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz è scattato alle 19.30 circa quando gli uomini del dottor Mannelli hanno notato la presenza dell'uomo in un parcheggio a bordo di un'autovettura. Il quarantenne foriano a seguito del controllo da parte degli agenti mostrava segni di evidente insofferenza. Nel corso di una successiva perquisizione personale e domiciliare, la polizia ha trovato sostanza stupefacente del tipo eroina e crack per oltre 4 grammi complessivi, oltre a strumenti utilizzati per il confezionamento in dosi e una somma di denaro consistente in 350 euro. Il tutto debitamente sequestrato è messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per l'uomo è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e anche l'auto è stata sottoposta a sequestro. Vede avvicinarsi i poliziotti e si dà alla fuga. È accaduto nelle primissime ore della mattina intorno all'1.45 circa all'Acquameno in via Rosario. Gli agenti dell'Ufficio Controllo del Territorio e gli ordini del dirigente del commissariato dottor Mannelli hanno notato a quel loro uomo a girarsi per le strade del paese. Alla vista dei poliziotti in divisa tentava di dileguarsi, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo. Tenuto conto dell'ora notturna e dell'atteggiamento assunto, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il soggetto residente del comune di Ischia e già noto alla Polizia di Stato all'atto di essere accompagnato presso gli uffici di Via delle Terme ha assunto un tono minaccioso ed ostile nei confronti dei poliziotti con frasi irriguardose e di disprezzo verso la divisa. Su disposizione del PM di turno presso la Procura della Repubblica di Napoli l'uomo è stato deferito in stato di libertà per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale nonché segnalato alla Prefettura di Napoli per il possesso della modica quantità di sostanza stupefacente che è stata sottoposta a sequestro. Andiamo a Forio, la questione dei rifiuti rischia di cadere nel paradosso l'afferma il consigliere di opposizione Vito Iacono che evidenzia le numerose contraddizioni in materia. Da una parte, dice Iacono, si parla di esuberi dall'altra si chiede al personale di ridurre il proprio orario di lavoro il tutto mentre il territorio continua ad essere sporco. Sentiamo Vito Iacono. Sembra non aver mai fine. Perché è tutto paradossale. Da un lato l'azienda annuncia ulteriori esuberi per cui minaccia licenziamenti e chiede in maniera quasi estorsiva all'ente o mi dai ulteriori servizi che non si può fare tra le altre cose o licenzi i dipendenti in esubero. L'amministrazione dice che gli esuberi non ci sono ma non sostanzia nel contraddittorio con atti formali questa circostanza che non ci sono esuberi e intanto risulterebbe che i lavoratori siano utilizzati a regime ridotto nel senso fanno orario ridotto. Se c'è un esubero è contraddittorio e poi tu invece quelli che hai li fai lavorare di meno perché c'è un problema anche di organizzazione del lavoro e di ottimizzazione delle risorse. Quindi ho chiesto al sindaco di dare conto se queste circostanze rispondono al vero il paese ritengo almeno negli aree periferiche è sporco quindi queste risorse possono essere utilizzate per farci vivere in un paese diverso in un paese migliore, in un paese pulito. Dopodiché se invece l'azienda non sta utilizzando appieno le risorse umane e anche i mezzi meccanici significa che alla fine del mese non gli va riconosciuto il canone di cui è al bando perché significa che da un lato non sta rispettando il contratto di lavoro con i dipendenti ma cosa ben più grave non sta rispettando quello previsto dal contratto di appalto. Non possiamo liquidare un canone a un'azienda che non rispetta nel numero di ore impegnate dalle risorse umane quelle che prevede il contratto di appalto. Se poi ci sono esigenze diverse dal punto di vista organizzativo interveniamo come richiesto nel piano di gestione dei rifiuti del comune di Foria e rivediamo il capitolato. Noi siamo pronti a tutti ma sicuramente non siamo disponibili a fare finta di niente rispetto alle minacce di licenziamento rispetto al fatto che i lavoratori vengono costretti a lavorare in maniera ridotta che chiaramente non reagiscono perché sono minacciati di licenziamento di sanzioni e quant'altro e quindi vogliamo esercitare il nostro ruolo di controllo sotto questo punto di vista e di indirizzo per quanto riguarda una revisione del piano di gestione che si può fare. E ci spostiamo a Serrara Fontana. La città metropolitana ha approvato il progetto definitivo per i lavori di manutenzione straordinaria dell'alveo di Cava Ruffano. Porto complessivo del progetto ammonta circa 661 mila euro. Un finanziamento, dichiara il sindaco Rosario Caruso che avevamo chiesto anche in passato e che finalmente è stato approvato. Questi fondi saranno utilizzati per la pulizia dell'alveo al fine di evitare che i detriti si accumulino creando danni notevoli al territorio. Sentiamo il sindaco. A Serrara Fontana stanno per arrivare dei fondi per Cala Ruffano. A che cosa serviranno questi fondi? Come verranno spesi dal comune? Noi abbiamo un problema sul nostro territorio che riguarda il distesso idrogeologico e la pulizia degli alvei. tra i tanti siti da monitorare e da tenere in efficienza abbiamo quello lì di Cava Ruffano. È un alveo che parte da Serrara e arriva fin giù a Sant'Angelo. Abbiamo richiesto già negli anni precedenti alla città metropolitana di intervenire per una manutenzione straordinaria all'alveo. Fortunatamente la città metropolitana ha stanziato dei fondi e ha fatto un progetto. Questo progetto è stato approvato in conferenza dei servizi e quindi a breve partiranno i lavori di sistemazione dell'alveo e di pulizia dell'alveo stesso. Questo eviterà che i detriti si accumulino e che quindi facciano da tappa e possono provocare dei pericoli per i fruitori del parcheggio di Cava Ruffano. L'intervento che l'amministrazione ha chiesto più volte e siamo contenti che la città metropolitana ha risposto positivamente a questa richiesta. Si sa già quando partiranno i lavori? Immaginiamo o prima dell'estate e poi si separeranno l'intervento subito dopo l'estate. Il gruppo per Procida ha emesso un comunicato sull'occupazione militare della cosa pubblica da parte del gruppo La Procida che vorrei. La recente nomina del membro OIB del comune di Procida si legge nel comunicato da quando tale figura è entrata nella legislazione non ha mai avuto alcuna relazione diretta così come oggi si presenta con l'aspetto politico. Non sono le chiacchiere che lo dicono ma l'effettiva occupazione militare che il gruppo La Procida che vorrei sta facendo della cosa pubblica con la designazione del dottor Marino e oltremodo visibile il fatto che si è nominati dal sindaco nelle società o enti partecipati dal comune solo ed esclusivamente per appartenenza al medesimo gruppo politico. In questi giorni la campagna sta assistendo a diversi episodi di violenza verso gli animali visto anche l'abbandono degli undici cuccioli in un roveto sull'isola Dischia come denunciata dall'EMPA. l'hanno detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli e l'assessore comunale di Salerno Maria Rita Giordano c'è un aumento degli abbandoni di cani e gatti che continua anche in questi primi mesi del 2017 così come sono cresciuti gli atti di violenza vestono gli amici a quattro zampe e serve l'impegno di tutti dicono i Verdi per evitare il ripetersi di altri episodi del genere e per questo motivo chiediamo a quanti venissero a conoscenza di qualcosa a contattarci e penseremo noi dicono i Verdi alle denunce alle forze dell'ordine non bastano le lamentele di uno o due vicini per far scattare a carico del proprietario del cane che abbaia insistentemente il reato di disturbo della quiete pubblica ma è necessario che i rumori si sentano anche in lontananza così da dar fastidio a tutto il palazzo o al circondario lo riporta la Cronos Noas Omane Ambiente che aggiunge se l'abbaiare del cane molesta solo i vicini del piano di sopra o di sotto e il dirimpettaio questi ultimi possono agire solo dinanzi al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno i confini invece per la tutela penale sono molto più ristretti per poter chiamare i carabinieri e sporgere denuncia a querela c'è bisogno che l'abbaiare del cane sia testimoniato anche da altre persone non quelle più prossime all'appartamento incriminato Domenica ci sarà la festa del donatore a cura della FIDAS Isola Dischia nell'ambito della cerimonia saranno consegnati premi ai donatori che ci sono distinti particolarmente per conoscere i dettagli dell'evento vediamo l'intervista col presidente FIDAS Luigi Trani che lancia anche un appello per una nuova emergenza sangue vediamo ci sono persone che davvero danno il loro sangue per il prossimo e per questo ogni tanto vanno premiate per questo domenica prossima ci sarà la festa del donatore ne parliamo con Luigi Trani il presidente buonasera la festa si terrà nel comune di Forio è la ventinovesima festa del donatore ci proponiamo di premiare quei donatori che si sono distinti durante l'anno per aver raggiunto determinati risultati quindi si compone di una parte religiosa che comprende la messa che si celebra nella chiesa di San Francesco di Paola nel comune di Forio alle ore 16 successivamente subito dopo alle 17.30 ci spostiamo all'Oasis nell'ambito di Villa Sorriso dove premieremo i donatori che si sono distinti per particolari risultati raggiunti durante l'anno ecco intanto tu volevi lanciare un appello per quanto riguarda proprio la raccolta di sangue perché c'è una richiesta da parte dell'ospedale Cardarelli sì in Campania in particolare nell'ospedale delle Cardarelli c'è carenza di gruppi negativi quindi serve gruppo 0 negativo A negativo e B negativo la prossima donazione che è quella del 26 di febbraio noi cercheremo di raccogliere quanto più sangue possibile di questa tipologia l'hotel Referdinando apre il proprio centro termale agli ischitani lo scopo di questa iniziativa ha dichiarato il dottor Pasquale Scannapieco che è il direttore sanitario delle terme è quello di far riavvicinare gli isolani alle cure termali i turisti vengono da tutta Italia non solo per usufruire dei benefici delle nostre acque mentre gli ischitani difficilmente riescono a trovare del tempo da dedicare ai trattamenti termali sentiamo il dottor Scannapieco le terme dell'hotel Referdinando aperte anche agli ischitani una novità importante per far usufruire di questi servizi anche i nostri isolani sì noi ci siamo accorti che gli isolani usano poco le terme e quindi abbiamo deciso di offrire i nostri servizi di aprire le nostre terme di pubblicizzare di più le nostre terme per permettere agli ischitani di avvalersi di questa struttura quali sono i servizi dei quali potranno usufruire potranno usufruire delle cure fangobalneoterapiche delle cure inalatorie abbiamo un reparto anche per bambini quindi possono venire anche i bambini con patologie delle vie respiratorie e poi c'è una bellissima palestra e le cure antalgiche fisioterapiche abbiamo un buon reparto un ottimo reparto di fisioterapia ricordiamo se ci fosse bisogno agli ischitani quali sono i benefici di frequentare le terme Le terme si fanno innanzitutto per cercare di riposare di prendersi un periodo di pausa e di curare il corpo ma ci sono anche benefici per quanto riguarda i problemi articolari le patologie muscolari le patologie respiratorie quindi nella nostra terme è possibile curare questi accidenti ed evitare di ricorrere a farmaci frequentemente Una comunicazione di servizio gli ischitani che vorranno venire alle terme del ref di Nando dovranno prenotare oppure potranno venire direttamente Possono prenotare e possono venire direttamente c'è un servizio di segreteria che può essere diciamo utile per fare sia la prenotazione che per venire direttamente L'ampia pagina sportiva il calcio il campionato di eccellenza è importante vittoria del Procida che allo Spinetti ha battuto il Savoia 2 a 0 il Procida vince ancora doma il Savoia un'altra grande squadra del campionato di eccellenza prima vittoria nella storia contro i biancoscudati battuti da una doppietta di Dodò al 38esimo e al 95esimo vedremo la telecronaca dell'incontro dopo questo telegiornale intanto ci vediamo una sintesi Spinetti di Procida per la gara tra l'isola di Procida di Bruno Mandragora ed il Savoia si parte si parte allora con il primo possesso di palla con Napolitano che è un movimento fatto da Roghi lascia lì il pallone Guarro ci mette una pezza Sibilli perché Rinaldi ne sta approfittando poi Sibilli si addormenta è bravissimo Napolitano il lancio per Dodò è ottimo in ora di rigore Dodò il diagonale con il gallo che devia in calcio d'angolo ancora Agata si sovrappone Terrone Agata in verticale gran palla Tulimieri al centro la deviazione di Honda è salvato sulla linea di Del Prete in verticale Prevede per Esposito più veloce di Micalo Esposito che poi va al tiro Tulimieri il tiro a giro Lamarra in calcio d'angolo bravissimo ancora Sperandeo si accentra Sperandeo gran palla per Dodò in area di rigore perfetto lo stop di Dodò che non sbaglia non sbaglia Dodò Procida in vantaggio il secondo tempo di Procida a Savoia Rone Dodò che va al cross al centro e se la dimora qui Roghi lungo rilancio di Gallo colpo di essa di Giannaro Esposito poi Signore Agata va da Tulimieri trattenuto alle spalle da Chiaro calcio di rigore momento importante della gara va Guarro Lamarra palo e poi la para Lamarra ancora grandissimo intervento di Francesco Lamarra Esposito Agata ancora Esposito prova il suggerimento ancora per Agata che ora arriva sul tiro cross al centro il coppio di essa provato da Bacio la palla resta lì Rinaldi si godi nel destro di Rinaldi cross al centro con un po' di destra di Tulimieri e Lamarra in area di rigore Bacio di Racino ancora per Dodò questo contro tempo c'è Napolitano direttamente al tiro Napolitano palla di poco alta sopra la traversa la scaraventa in avanti per Dodò che può sfruttare tutta la sua velocità c'è terrore su di lui gli regala la palla Dodò per chiuderla viene fermato ma non è finita Bacio del Racino straordinario anche lui qui su questa giocata poi lancia Dodò in area di rigore Dodò supera Gallo il sinistro di Dodò e Gallo che ritorna e mette in calcio d'angolo cross di Pianese la tocca Bacio del Racino il tiro di Pianese poi è bloccato da Lamarra in avanti Esposito il tiro di Esposito Lamarra invoca il triplice Fischio lo Spinetti Tulimieri la prende poi del prete la palla resta lì e ne accoppola libera rincorre la sfera Dodò la porta è vuota Dodò a porta vuota Dodò la deve chiudere Dodò e la chiude Dodò e il Procida vince il Procida batte il Savoia e la doppietta di Dodò allo scadere quinta sconfitta invece in sei partite per il Barano gli Aquilotti rinviano ancora una volta l'appuntamento con la salvezza contro una Real Albanova praticamente trasformata dal mercato invernale a decidere la gara un gol di Guarracino sugli sviluppi di un calcio piazzato forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto in una gara in cui le due compagini si sono annullate a vicenda vediamo le immagini si comincia è iniziata Barano Real Albanova qua azzurra pallone in mezzo Sojuzzo ancora Sojuzzo entra in area Sojuzzo il tiro la parata 13 minuti sul cronometro di gara 0 a 0 attenzione tocco di mano di un giocatore del Barano Occhio adesso Accolella pallone in mezzo Fragiello pallone che resta lì Palmiero rimedia all'ultimo istante pallone per lui ancora Farina poi Sojuzzo di prima per Savio messo giù Savio si gioca Ferrari mette in movimento Mautone Mautone il tiro dalla distanza altissimo sempre Ferrari sulla tre quarti Mario Sojuzzo ancora Sojuzzo sta arrivando Cantelli il pallone per lui forse troppo lungo pallone in mezzo è uscita attenzione perché il Barano ha un po' di spazio Sojuzzo ancora Sojuzzo pallone per Savio la posizione era regolare non riesce a controllarla Pasquale Savio alla ripartenza degli ospiti Carannante il tiro alto e si ricomincia con il secondo tempo cross intanto in mezzo attenzione al pallone che resta lì la ciccano tutti a curso un po' di spazio potrebbe andare al cross lo effettua Savio a vuoto attenzione adesso a Guarracino il tiro fuori Ferrari gioca bene il Barano attenzione ad al curso cross in mezzo morbido Savio di poco alto esposito pallone per Sojuzzo prova a girarsi pallone alto pallone in mezzo pallone che resta lì Simone non calcia lo fa in questo momento pallone fuori il momento attenzione adesso a Cantelli sta arrivando anche Sirabella Cantelli prova il tiro Savio la sfiorà incredibile Diana c'è fallo la battuta cross in mezzo il gol della Real Albanova il gol della Real Albanova al minuto 27 vedremo tra poco tanto c'è un altro tiro Palmiero non trattiene Fragillo parte Sojuzzo pallone a lato finisce qui la partita il Barano perde 1 a 0 il commento a fine gara dei due allenatori rammaricato all'allenatore in seconda del Barano Ciro Mennella dobbiamo aumentare il livello di attenzione di tutta la squadra soddisfatto il mister di Real Albanova a potenza abbiamo collezionato tre punti importanti che ci avvicinano alla salvezza sentiamoli che oggi stiamo a parlare di diciamo di episodi in ogni minima distrazione sembra che in quest'ultimo periodo ci sia l'occasione giusta per castigarci dobbiamo aumentare molto il livello di attenzione di tutta la squadra perché la partita come detto è stata equilibrata però non possiamo permetterci di perdere marcature in area di rigore su un calcio d'angolo a prescindere dal fallo avvenuto fuori area che era evitabilissimo però rimette c'è il rammarico perché era una diretta concorrente noi sapevamo che comunque trovevamo qua veniva una squadra agguerrita una squadra che aveva bisogno di punti come noi e purtroppo dobbiamo fare tutti qualcosina in più a Barano i punti qua devono uscire da questo campo non possiamo permetterci distrazioni abbiamo collezionato tre punti complessivamente che ci avvicinano ulteriormente alla salvezza il trend positivo fa parte di un certo percorso di un certo lavoro sul quale stiamo lavorando da due mesi dissi a suo tempo avevamo bisogno un attimo di mettere insieme tanti giocatori perché non era facile i ragazzi stanno dando grandissime soddisfazioni innanzitutto per loro come premio per quanto stanno facendo ci godiamo questa vittoria perché sappiamo di aver vinto su un campo difficile contro un'ottima squadra abbiamo saputo soffrire abbiamo saputo interpretare abbiamo cercato di neutralizzare le loro fonti di gioco domenica mattina alle 11 il Real Forio affronta il trasferta il San Giorgio i bianco verdi sono reduci da 5 risultati utili consecutivi tre pareggi e due vittorie arrivate per lo più contro dirette concorrenti per la salvezza ad eccezione del Casaluovo la squadra napoletana non sta vivendo un gran momento a parte la vittoria col Volla nella prima di ritorno sono arrivate tre sconfitte e un pareggio contro Albanova Portici Savoia e Sessana sentiamo mister Impagliazzo si affronta una squadra che sicuramente va per la maggiore sicuramente giochiamo contro una buona squadra una squadra che forse viene da qualche risultato negativo nell'ultimo periodo però è una squadra che fino alla fine del giorno d'andata si è trovata a tu per tu con Portici Afragolese e Savoia per una settimana è stata pure da sola in testa alla classifica quindi significa andiamo a giocare contro una buona squadra siamo in un momento favorevole almeno per quanto concerne il gioco per quanto concerne i risultati ottenuti nelle prime cinque giornate del girone di ritorno però siamo anche un attimino rimaneggiati per l'ennesima squalifica rimediata da Guastagna dove addirittura ho avuto quattro turni di squalifica dove mi sembrano veramente eccessivi per quello che poi si è verificato in campo e per di più abbiamo la defezione di qualche ragazzo che evidentemente avendo giocato da titolare tutto il giro nell'andata si sentiva titolare inamovibile questa settimana non avendo giocato per tre o quattro partite non si è mai presentato al campo campionato di promozione la nuova ischia ospita domenica pomeriggio alle 15 al Mazzella il summa rionale Trieste fanalino di coda del girone B vediamo il servizio con mister Isidoro Di Meglio mister finalmente la nuova ischia ha svoltato adesso si cercano conferme contro il summa rionale Trieste sì assolutamente abbiamo la necessità di dover fare un filotto di vittorie lungo che ci possa consentire di giocarci il campionato fino all'ultima giornata come si affronta questa gara con il summa rionale Trieste certo avversario sempre da temere però è pur sempre l'ultima in classifica con la consapevolezza di non poter di non dover sbagliare assolutamente perché domenica siamo andati a San Giovanni contro la San Giovannese che non è una squadra inferiore alla Puteolana e con il giusto atteggiamento con la giusta voglia con la giusta concentrazione siamo riusciti a sbloccare la partita abbiamo ascoltato le dichiarazioni di mister Isidoro Di Meglio ma adesso facciamo il punto in questo sepezio il 3 a 0 in casa della rinascita San Giovannese è stata una liberazione per la nuova ischia la prima vittoria del 2017 si è fatta attendere per oltre un mese ed è arrivata praticamente all'ultima occasione prima di un tracollo che per fortuna è stato evitato e domenica scorsa è arrivato anche il primo gol in maglia gialloblu di Gianluca Saurino chissà se la nuova ischia e il suo bomber si sono sbloccati in via definitiva la prova si avrà domenica quando la nuova ischia ospiterà al Mazzella ore 15 il summarionale Trieste fanalino di coda del girone B mister Di Meglio potrà contare praticamente su tutti gli effettivi a parte del Deo che sembrerebbe essere in forte dubbio per la partita di domenica ci sarà invece quasi sicuramente Gianluca Saurino il quale domenica scorsa uscì per un infortunio che poi si è rivelato meno grave del previsto il primo posto ora è distante 4 punti ma le occasioni per rimontare il meno 4 dal Bagoli e il meno 2 dal Monte di Procida ci sono dopo il summarionale Trieste gli isolani troveranno sulla propria strada Oratorio Don Guanella e Quartograd il Monte di Procida avrà lo scontro diretto con il Bacoli tra tre giornate per poi affrontare in casa proprio la nuova ischia le prossime 4 saranno giornate cruciali per provare a riagganciare il primo posto a questo punto però il potere non è più nelle mani della squadra di Sidoro Di Meglio che non solo deve vincere ma deve sperare anche in passi falsi delle contendenti nel frattempo è arrivata la notizia della mancata accettazione del ricorso presentato in occasione della gara con la Puteolana per gli arbitri e quindi per il giudice sportivo Camorani è stato ammonito due volte e pertanto è stato giustamente espulso l'omologazione con il risultato di 1 a 0 in favore della Puteolana è stata ufficializzata e quindi nulla da fare per la società del padron malestriere se il tribunale non è riuscito a rimettere in gioco le distanze dalla capolista Bagoli la nuova ischia potrà farlo dimostrando sul campo di essere la più forte i ragazzi di Sitoro Di Meglio devono ritornare ad essere quelli del girone d'andata i nuovi arrivati su tutti Saurino devono inserirsi una volta e per tutte negli schemi di Sitoro Di Meglio la nuova ischia ha bisogno di ritornare ad essere squadra ad essere un gruppo e se si vuole ritornare in testa alla classifica c'è bisogno del contributo di tutti da Mennella e Chiarello gli unici ad essere costanti nelle loro prestazioni positive fino a Ciro Saurino Camorani Arcobelli Gianluca Saurino e tutti gli altri che saranno chiamati in causa la rosa isolana vanta diversi top player che non possono più permettersi prestazioni mediocre come quelle delle prime quattro giornate i gialloblu se vogliono veramente vincere il campionato cambino passo ora o mai più e una volta imboccata la retta via continuino a marciare senza deviare il percorso parliamo di calcio 5 periodo difficile per la futsalischia non solo per i risultati negativi ma soprattutto per gli infortuni che continuano a perseguitare la squadra allenata da Aniello Di Iorio tante le assenze in casa gialloblè e contro la seconda della classe si infortunano prima a Catrinei e poi di meglio entrambi nel primo tempo il quotato Arzano vince di misura 2 a 1 al taglia la tela ma i ragazzi di Aniello Di Iorio escono sconfitti a testa alta nonostante l'amarezza per la sfortuna che continua a portare giocatori in infermeria domenica dalle 11 alle 17 nelle acque antistanti dell'isola d'ischia si svolgerà la regata velica Coppa Natale Proto organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione dell'isola d'ischia con percorso a bastone nello specchio acqua antistanti i comuni di Casamicciola e l'Acquameno nel mondo delle nuove professioni turistiche emerge la figura di guida escursionistica ambientale o accompagnatore naturalistico esperti con titolo di guida ambientale escursionistica provvederanno a formare gli alunni dell'istituto telese d'ischia con lezioni mirate alla conoscenza del territorio gli incontri si terranno presso la palestra dell'istituto lunedì prossimo 20 febbraio a partire dalle ore 9 e 30 un seminario di archeologia lunedì prossimo alle 18 si svolgerà presso la biblioteca comunale Antoniana d'ischia cura del centro studi dell'isola d'ischia il seminario sarà tenuto da Mariangela Catuogno che parlerà del tema dalle notizie degli eruditi locali e stranieri alla scoperta archeologica dell'antica Pitecusai si tratta del primo di 5 appuntamenti a cadenza mensile che compongono la fase seminariale ed ora il meteo vediamo che tempo farà sulla nostra regione con nevicate deboli o moderate revisioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna schierite alternate a nubi sparse nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti bene chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale vi lascio alle immagini della partita Procida Savoia vi auguro buona domenica e ci rivediamo come sempre lunedì con l'edizione delle 14 arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.